Il Giappone alla Sala Chilesotti del Museo Civico di Bassano mercoledì alle 20 e 30 per assistere alla cerimonia del tè nella cultura giapponese. Un rito che va oltre la preparazione della bevanda, un cammino per corpo e mente con oggetti, scelta del cibo, gesti, sguardi, riassunti in armonia, rispetto, purezza e tranquillità. L'evento, che sarà presentato da Anita Dudek, polacca di origine che ha vissuto in Giappone e ha frequentato la più prestigiosa scuola di cerimonia del tè, è stato promosso dal Consiglio di Quartiere di Sant'Eusepio. Grazie a tutti.